Ci troviamo a Roma, a Dezzanavone, con un cantante russo, veramente bella, Natana Kersh. Ciao Antonio. Come è stata la tua passione per la musica? È nato molto strano, io cercavo sempre a capire da dove vieni questa musica. Sento musica di per tutto, sta di per tutto dentro me, dentro il cuore, dentro il agno, dentro il cervello. Come fiume su tutto il corpo. E poi un giorno ho capito da dove vieni. Mia madre era cantante e girava con concerti, tutta la Russia, tutte le repubbliche sovietici. E lei mi raccontava un giorno che quando erai incinta con me, durante 9 mesi, faceva tantissimi concerti. C'è un po' dopo ho capito che la passione è nata prima che quando sono stata, diciamo, prima che sono stata nata vivo. C'è un po' dopo ho capito che non mi prendi più in giro. C'è un po' dopo ho capito che non mi prendi più in giro. Mi è piaciuto molto questo centro, l'atmosfera, ho imparato tante cose, ho scoperto da me tante cose, che mi aiutano molto nel mondo di musica. So che hai tanti hobby. Sì, ho diversi hobby, sport, lettura, ma di più mi prendo molto cinema. Cioè che mi piacerebbe provarmi in questo genere, mi piace molto dipingere. Io faccio dipingere, faccio anche ricamo, belle quadri, però questa è una casa mia. Tu ti scordi di me Il processo di futuro Per quest'anno sto registrando cd, tre lingue, italiano, inglese e russo, con canzoni inedite, che canto io, ricito io, per mercato europeo. C'è una canzone che a te piace molto, c'è di che sei registrata, è una canzone di Mila? Sì, un po' le parole, un nuovo arrangiamento, un pochino pop, un pochino rap, sì, molto interessante. Poi, uno progetto mio personale, che sento io a fare, quando farò successo mondiale, io anche voglio fare beneficenza, beneficenza per bambini, perché mi tocca molto, e certo che anche come sono russo, io molto metto a questo punto anche la Russia. E' un po' le bambine. Mi preoccupa il nostro futuro. Con questo effettivo che abbiamo adesso nel mondo, questa energia inizio, perché se io posso mettere un buono passo, un buono gesto in questo mondo, e un pochino ammigliare questa, da me solo più, io sentirò meglio, l'importante è questo. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? E allora ragazzi, chi vuole ascoltare la mia voce, può andare sul sito myspace www.myspace.com slash natalicad Potete vedermi, sentirmi, lasciare commenti, lasciare massaggi, tutte quelle che volete. Ciao! ... ... Grazie per la visione Grazie per la visione